ok partito, si siamo? si ottimo la camera da ieri è partita è partita? si bene, sei pronto? si va? si va 1 2 3 qui vai 2 3 4 3 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12